Amici di BBTV, dallo stadio Gianni Ibrera e Lazzate, un caloroso benvenuto da Matteo Ventura, pronto a raccontarvi tutte le emozioni di Ardo Razzate Saronno, gara valida per la quarta giornata del Gironi A di Eccellenza Lombarda. ...della sezione di Milano e secondo assistente Madaschi da Bergamo. Subito partiti con questa sventagliata sulla sinistra a cercare i centimetri di schieppati che però non raggiunge il pallone. La conclusione poi del suo attaccante, molto bravo Mario Lido Porsi, attenzione qui al cross, la deviazione, la sforbicciata e poi il salvataggio! Ci mette la faccia in tutti i sensi il difensore dell'hardor, schieppati, clamoroso, adesso il poverino rimane anche a terra. Funziono qui al gran lancio per Gian Gaspero, che fa col mancino, vinci! Sparata meravigliosa, non è finita però, Silla, Silla ancora lui, accomoda! Permo al vestito che spara altissimo! Di noto, lo sul secondo, il colpo di testa, la palla in out, a toccare è stato proprio un giocatore. Il cross sul primo, la deviazione, golla! Il golla! Capitan Marioli! Stelta su tutti e la mette dentro! Passa in vantaggio l'hardor, ha segnato Capitan Marioli! Va lungo per il suo mancino Gian Gaspero Sono tutte sue le palle oggi Poi Fogalla Verso Silla Nel numero Silla Il meraviglioso Nel numero 10 Silla da impazzire Con la suola Se la sposta sul mancino E poi Traffigge Ancora una volta l'incolpevole vinci 2-0 Spettacolo Ardorlazzate Tutto l'avversario Schieppati all'uno contro l'uno Schieppati Pallone sul mancino Va al cross Palla che arriva all'altra parte Buona forse sì Per Gian Gaspero Lavora ancora con il suo fisico E la sua tecnica numero 9 Ne andò addosso Provare la meglio Ci riesce anche stavolta Pallone proprio sul secondo Ma schieppati Clavorosamente La mette Alza Da sotto porta Minato il suo incontro Dopo appena 45 minuti di gioco Sono stati sicuramente 45 minuti molto difficili per l'ex Ardor Supera l'avversario Sassella Grande assist Per Sala Barbieri si oppone e para Intervento provvidenziale Gran botta quella partita Vola e la toglie Vola e la toglie dall'incrocio dei pali Con il petto Ancora Gian Gaspero Esco così là Allora Lo dico da Gian Gaspero Con il destro Gian Gaspero Ha segnato il moto d'or Il numero 9 Il numero 9 Ha segnato Sempre Il solito Gian Gaspero Gioca il Saronno Sala Apri bene Però è messo dentro il piazzato Tagliato il gol Il gol Non muore mai il Saronno Non muore mai il Saronno 3-2 Partita ancora vivissima L'aria aperta Il Saronno L'aria aperta Gran numero Con Pontigio che può andare a crossare sul fondo Pontigio col mancino Disegna questa parabola Sul secondo palo Dove c'è a fronto Sala Toriani Il cross Colpo di testa Palla a centimetri dalla traversa Toto Fa fuori l'avversario Bobo al tiro Palla che scherce il palo Arriva il fischio Ma non è messo dentro La sponda Sul secondo Pontigio contro la male Pontigio Ancora lui Pontigio Ma sul fondo Altro cross Messo dentro Marioli con la testa Non è finita Il mancino Golla Il golla 3-3 3-3 Ce l'ha fatto il Saronno Ce l'ha fatto il Saronno 3-3 Sesto gol Di una partita Bellissima È arrivato il gol Del pareggio Ci ha provato Con tutte le sue forze La squadra Di mister Il tricarico Tanto Che è arrivato Il gol del pareggio Del Saronno E' arrivato la traversa Gravoroso Traversa Da centrocampo Questa partita Ci sta regando Emozioni mai viste Il torno a traversa Che poteva valere Il gol del 4-3 Da centrocampo Il Gianni Brana È un inferno adesso Gioga l'hardor Gli ho dato Semiato avversari Gli ho dato Grappolare Maggio Cucchiello Mamma mia 4-3 4-3 Che partita Non è possibile Non è possibile Un gol pazzesco 4-3 4-3 Malvestivo 4-3 Mi hai visto una partita così In eccellenza Mi hai visto una partita così Che cosa stiamo assistendo oggi Ma che è vero pochissimo Alla fine adesso Mi ho dato Deve tenere lì il pallone Malvestivo Malvestivo Vuole provarci Malvestivo Per chiuderla Vinci Vinci La tenere lì Varo Vincia qui Vincia qui L'hardor Vince Una partita storica Complimenti al Saronno Mai Domo Che ci ha creduto fino alla fine E ha messo Alle corde Unhardor Che sembrava Verla vinta Già nel primo tempo 90 minuti e più Davvero Bellissimi Onore al Saronno E complimenti all'hardor Bellissima partita Complimenti ragazzi Amici di PTV Un saluto A Mattaventura Che non ha più voce Che non ha E ha seriamente compromesso Le tue corde vocali Oggi Ma per regalarvi Lo spettacolo Davvero immenso Complimenti all'hardor E complimenti anche al Saronno Che non ha più veloz